Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. Degrado e paura contada a Quattrograna, di notte non si dorme, avvertono i pochi condomini che ancora risiedono nei fatiscenti prefabbricati in attesa di una nuova destinazione. Approfittando degli alloggi lasciati vuoti, abusivi ladri tentano a ripetizione l'assalto per occupare le quattro mura o trafugare, quelle poche sul pellettili lasciate sul posto. Insomma, i lati non risparmiano nemmeno le macerie di un quartiere ormai invivibile. Stamane l'aria è irrespirabile per la presenza delle fogne scoppiate sotto le finestre e i balconi dei condomini. Una situazione igienico-sanitaria allarmante, ai piedi delle carcasse imbottite di amianto, invasi da topi, montagne di ingombranti. In uno dei giardini ridotti a pattumiera, nemmeno Santa Rita trova pace, lei che è la santa delle cause impossibili, si è piegata sotto i colpi del degrado. Non solo, solamente i fogne, ma pure i topi, ma belli grossi. Poco fa sono stata dal presidente e ha detto che devo aspettare. Poi voi da quanti anni state qua? Quasi 26. 26 anni. Voi siete assegnatari ad un altro alloggio nuovo? Sì, sì. Ma siete rimasta da sola qua? Adesso sono da sola e sono andata dal presidente a reclamare perché sono entrati delle persone da dietro, sono entrati nel portone perché speravano che la porta di fronte, i signori che sono andati via a primo piano, avevano lasciato la porta, invece no. Addirittura ci sono dei raid di ladri qua. Io ho paura di notte, io l'ho detto, ma purtroppo... I topi, quelli russi, no? Quelli piccirilli. I topi giganti? Eh. Che sbucano dalla... Eh, allora, io sono buco io. Quanti ne avete contato? Eh, 4-5. Insomma, si vive male qua? Ma è... E adesso addirittura i ladri, nonostante il degrado che c'è, vengono comunque a cercare di... Non li cercano di entrare negli appartamenti per vedere se trovano qualcosa. Abbiamo i sottotetti pieni di amianto, secondo me. Perché sono salito una volta a montare un'antenna, ma è pieno, pieno di amianto, in polvere. Secondo me i tetti li hanno... li hanno rotti e li hanno rimasti là. Un degrado è infinito, insomma. Ma è proprio... Voi siete anche preoccupati per queste condizioni, se lei mi dice... Eh, ci viviamo, ci viviamo, quindi pensa tu come possiamo stare. Se io commissario sarà una mossa, a venire a venire qua in coppa. A passi un giro. Ma se non vai al comune, li porti qua, li fai vivere un paio di mesi qua in queste case e farli rendere conto come si vive in queste case, allora sì.